Salve a tutti, oggi nuova ricettina di biscotti. Adoro questa combinazione. Per circa 20 biscottini ho usato 200 g di farina integrale di grano tenero, 5 cm circa di zenzero fresco grattugiato, 100 g di miele biologico, 50 g di noci, 50 g di olio di semi di girasole biologico, un uovo, un cucchiaino di bicarbonato e un cucchiaio di scorza d'arancia essiccata. Dopo aver messo la farina in una terrina, aggiungo il bicarbonato e la scorzina d'arancia essiccata, che voi potete usare anche fresca, di un'intera arancia, e mescolo con un cucchiaio. Quindi poi aggiungo le noci, lo zenzero, il miele, l'olio e l'uovo. E mescolo bene, prima con il cucchiaio e poi con le mani. A questo punto, dopo aver bagnato bene le mani con acqua e olio, sono pronta a formare i miei biscottini. Naturalmente la forma e la grandezza la decidete voi. Io li ho fatti piccolini, anche perché ricresceranno un pochino nel forno. Dopo aver preparato tutti i biscotti, possiamo infornare a 190 gradi forno già caldo per circa 10 minuti. Mi raccomando, intorno ai 10 minuti state attenti e controllateli perché possono bruciare in fretta. Ed eccoli qui, belli croccanti e profumatissimi. Io spero che questa ricettina vi sia piaciuta, mi raccomando il like al video in quel caso. E niente, vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.